da Maurizio Compagnoni a terra l'attaccata del Napoli ma arriva anche Lavezzi se la cava in qualche modo pur soffrendo la difesa della Juve pallone buono per Quagliarella il tiro Mandiger Lavezzi in zona tiro parte il tiro Mandiger cosa ha preso? Sale Zepinac che affonda in area di rigore Zepinac accelera Zepinac Zepinac il tiro palla fuori non c'è stata deviazione attenzione al Napoli che attacca gran palla di Lavezzi per Amsic il cross al centro cancia di rigore cancia di rigore fallo di Zepinac parte Amsic il destro Zepinac ha scheggiato la traversa e palla sul fondo subito Quagliarella che affonda palla sul sinistro il cross cato palla Amsic brutto Amsic il palla del Napoli ha messo a fare Filippe Melo al volo il tiro Mandiger sulla conclusione velenosa pallone spucato ci ha provato Maggio posizione di cross Amsic ma è brutto la partita della Ligue e dopo il vantaggio ha segnato Quagliarella dalla banderina la banderina che andreva palla sottoporta Mauri a cancella il pallone Filippe Melo lo gira Martisio De Santis parte velocissimo Campagnaro che si improvvisa attaccante lui che l'attaccante lo faceva in Argentina grande palla in area di rigore Lavezzi 3 a 1 e passisce il soppolo